Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva l'ottimismo di Massimo Galli. L'ottimismo, il profumo della vita, diceva Tonino Guerra nella pubblicità dell'Uni Euro degli anni 90. Lui è un grande ottimista, infatti ci racconta oggi che Omicron non sembra così buona. Ecco, perché ci va a raccontare un qualcosa di opposto rispetto a quello che dicono tutti gli altri. Paesi europei stanno togliendo tutte le restrizioni, hanno deciso di convivere con Omicron, con il Covid, perché è più contagiosa sì, ma meno grave. Quindi da pandemia si trasforma in endemia. L'OMS dice non ci sbarazzeremo del Covid, perché tornerà, ritornerà, ritornerà in ottobre, ma non ritornerà come pandemia, ma come malattia. Come tante altre. Perché Massimo Galli va a carta bianca dalla Berlinguer a dire che non sembra così buona? Perché? Perché è così ottimista questo medico? E lui dice che se si vuole parlare di terminare lo stato di emergenza come slogan, per dire che le cose stanno andando meglio, posso anche capirlo, ma non ha molto significato parlarne oggi. Quindi lo stato di emergenza che foste al mondo esiste solo ormai in Italia, perché tutti gli altri stati l'hanno già tolto da diverso tempo, per questo ottimista è uno slogan la fine dello stato di emergenza. E parla Galli della pandemia dimostrato di andare controcorrente. Lui ha sempre invitato alla cautela, nonostante i dati in discesa e una migliore situazione ospedaliera. Gli ospedali piano piano si stanno svuotando da malati Covid e malati per Covid. Galli sembra essere l'esperto più preoccupato di tutti. L'ottimismo è il profumo della vita. Basti pensare che Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute, ha già detto che molto probabilmente a fine marzo diremmo addio allo stato di emergenza, abbandonando tante delle attuali restrizioni ancora in vigore. Pure Matteo Bassetti, infettivologo del Sarmantino di Genova, invoca ormai da tempo una modifica delle misure contro il Covid, invocando l'inizio di una nuova fase di convivenza con il virus, come direbbe Di Maio, come stanno convivendo in tanti paesi europei. Invece Galli è il meno ottimista, non potrebbe fare la pubblicità dell'Uni Euro e in particolare parlando della nuova mutazione ha detto la variante Omicron non sembra sia così buona e aggiunge resto cauto nell'ottimismo aspettando un trend veramente robusto che ci permetta di dire che si è scollinato, almeno in questo paese. E ricordiamoci che la vaccinazione contiene una uscita dal problema. Bene, comunque lui si è distinto in questo periodo per il vero ottimismo sulla malattia. Ad esempio Speranza, che è un altro grande ottimista, lui dice ma è 30% dei casi in meno, sì ma i dati sono ancora alti, come dire tranquilli che i dati sono ancora alti. Su Quarta dose dice ragioneremo sulla base delle indicazioni della comunità scientifica italiana internazionale. I numeri sembrano segnalare, dice, una nuova fase da sette giorni, sette chili in sette giorni. Ad affermarlo è il ministro della salute, Roberto Speranza, Robi per gli amici su Sky TG24. E dice così, nell'ultima settimana si registrano circa il 30% di casi in meno rispetto a quella precedente. C'è un segno meno anche sui ricoveri, ma è importante restare con i piedi per terra. Serve ancora una grande attenzione, i numeri sono comunque ancora alti, dice su Sky TG24. Aggiungendo che il Green Pass ci ha messo nelle condizioni di vietare chiusure generalizzate. Il Green Pass con le mascherine sono strumenti essenziali, siamo dentro pandemia, a Hug. Bisogna leggere i dati e decidere passo dopo passo. Beh, delle ricerche internazionali, visto che lui piace ascoltare le cose internazionali, dicono che le restrizioni Green Pass di vieti hanno prodotto un rallentamento dei contagi paragonabile al nulla, 0,2%. Pertanto il Green Pass, caro Speranza, non è uno strumento che ci ha evitato le chiusure generalizzate. Il Green Pass è uno strumento politico fatto per convincere le persone a vaccinarsi. Il Green Pass, come affermava Giorgia Meloni, aveva assolutamente ragione, il Green Pass non ferma il contagio. Perché una diminuzione dello 0,2% è nullo. Mentre sulla quarta dose ragioneremo, dice Speranza, sulla base delle indicazioni della comunità scientifica italiana internazionale. E sulla scuola, dice gli studenti vaccinati nella fascia 12-18 anni, fascia in cui il tasso di vaccinazione intorno all'80%, non andrà più in didattica a distanza. La scuola in presenza è un valore da tutelare. È bello è positivo che questo segnale di una fase nuova della pandemia parta dalla scuola. Vabbè. Nella fascia che riguarda le scuole elementari, il numero dei vaccinati è ancora esiguo, dice in Italia ci sono tra i pediatri migliori del mondo e possiamo fidarci di loro. E in effetti tante famiglie hanno scelto di vaccinare i figli, sono dati molto incoraggianti. La scelta giusta è vaccinare i propri figli, sottolinea Speranza. Speranza, laureato in scienze politiche, fa il medico. È fantastico. E dice io sono il ministro della sanità. Però, insomma, avrebbero dovuto mettere un medico come ministro della sanità, un primario, un luminare, uno scienziato. No. Hanno messo il capetto di un piccolo partito di sinistra laureato in scienze politiche che pontifica da due anni su quello che bisogna fare o non fare. Ebbè, questa è classe, è classe. La nostra politica italiana è pura classe. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti. Belle le lampade, eh? Eh, vi piacerebbe averne una, eh? D'abbiamo. Grazie a tutti.